Ora sfiderai i migliori in assoluto Ho sempre sognato questo momento da quando sono nato Ok, Zaita, vediamo come te la cavi Cerca di stare dietro a Doc e Smokey Ricorda, la classe è tutto e quei due ne hanno da vendere Preparati Wow, notevole Vedere Thomasville così è stupendo Oh, è Luis! Attento Smokey, sto arrivando Luis! Oh, è fantastico C'è così tanto da imparare guardando questi ragazzi Hai imparato a guidare sullo sterrato? Imparerai anche questo Sì, mi sento piuttosto bene River Scott Era ora Wow, River Scott, che forza! C'è Junior, ora sì che è una gara Che faccia! Attenzione! Ora si corre nel bosco, Zaita Teniti pronto Ok, hai visto come hanno fatto? Imita i loro movimenti Non male, ci stai prendendo la mano Ci penso io, Cruz Uh, tacci dentro Che gara Che faccia! Ce l'hai fatta! Hai il battuto ai migliori Complimenti! Alla prossima Vi stai giu a tavola прев Accaria